A meno di un anno dal matrimonio celebrato a settembre 2023 la coppia ha deciso di separarsi, come annunciato dal manager del famoso TikToker, Nicola Paparusso, che ha parlato di una dinaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale. Tra i due ex la separazione non necessita di una procedura civile, perché il matrimonio è stato celebrato esclusivamente con il rito religioso musulmano, ha aggiunto. La cerimonia di nozze tra Kabilame e Wendy Tembelile Jewel era stata celebrata in Senegal alla presenza dei parenti più stretti e solo con solo rito religioso, motivo per cui non aveva valore legale e non sarà seguita la procedura di divorzio. Del loro giorno non era stata pubblicata nessuna foto, poi a dicembre la coppia aveva posato sui social mostrando al dito un prezioso anello. Wendy Tembelile Jewel è una modella nata in Danimarca, residente a Copenhagen, ma di origini sudafricane. È una delle protagoniste delle migliori fashion week del mondo. Oggi Kabilame si trova in America dove ha partecipato a Grammy, Oscar e Super Bowl. Diventato il creatore più seguito su TikTok, adesso è pronto ad affrontare la sua prima esperienza al cinema con il film 00 Kabi, un action comedy di cui è protagonista. Rea al video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.